Contro la violenza sulle donne serve l'impegno di tutti. In Senato si voterà il provvedimento che rafforza il codice rosso e le misure a tutela delle donne. Le leggi, tuttavia, da sole, non bastano. Occorre investire su prevenzione e formazione per promuovere il valore della parità e la cultura del rispetto nei confronti di tutte le donne.